Ben ritrovati ragazzi, in questa video lezione vi illustrerò l'attività che realizzerete e realizzeremo insieme concretamente in casse. Perché ho scelto questa attività? Prima perché fa riferimento a Bruno Munari, di cui già abbiamo sentito parlare, e il secondo motivo è perché in seconda noi dallo studio delle forme geometriche piane passeremo poi allo spazio, diciamo più o meno nel secondo quadrimestre. In realtà questa attività vi darà modo appunto di lavorare in maniera creativa, del tutto personale, un semplice cartoncino, io utilizzerò un foglio da disegno perché non ce l'avevo in casa, lavorando appunto questo cartoncino voi attraverso dei tagli potrete realizzare quelle che Bruno Munari chiama proprio sculture da viaggio. Che cosa sono queste sculture da viaggio? In realtà lui inventa queste opere pensando appunto che ognuno di voi può tranquillamente poi richiuderle e portarsene con sé, semmai in una stanza d'albergo, per poterle aprire e sentirsi un po' più a casa. Una scultura quindi di carta, trasportabile. Quello che a me interessa è che voi realizzate la vostra scultura da viaggio, quindi passerete in realtà, come ho già detto prima, dal foglio bidimensionale, dandogli una tridimensionalità. Una volta fatta la vostra scultura, il passaggio importante è quello della fotografia, quindi realizzerete un po' in classe, un po' in casa, le vostre foto e la vostra scultura, andando a studiare proprio le ombre o meglio come le vostre sculture cambiano a seconda appunto dell'illuminazione differente. ci potremo quindi divertire a comprendere quando la bidimensionalità si trasformi in tridimensionalità e come sia il rapporto delle forme con le proprie ombre. Detto questo, quindi in classe porterete il materiale necessario, realizzerete dei tagli, quindi la vostra scultura e poi proverete a fare le prime foto. Ovviamente poi vi dirò, una volta finita la scultura, come vanno fatte queste foto. Ovviamente in classe non avrete molto spazio, non avrete la, diciamo, l'illuminazione preferibile, però a casa potrete studiare e approfondire l'aspetto appunto della fotografia. che cosa vi servirà per questa attività? Grazie alla piegatura di un cartoncino che potrebbe essere bianco o colorato, si effettuano appunto dei semplici tagli, come li volete voi, più tagli, meno tagli, poi vi farò vedere anche, vi allegherò anche un file, vi farò vedere quali possono essere le possibilità e poi, una volta finita la vostra scultura, passeremo, l'ho detto, a fotografarne qualcuna in classe e poi a casa ne studierete, diciamo, la geometria delle ombre attraverso, con l'aiuto di una lampada. Vi faccio notare già una cosa, cosa che ripeterò anche dopo. Vedete, le sculture vanno fotografate a casa, cercando di avere uno sfondo uniforme, bianco, basta mettere un cartoncino dietro, bianco, utilizzare una lampada che illumina la vostra architettura, non cercando di evitare l'ombra della luce che voi stesso fate quando fate la foto. Vabbè, andiamo avanti, quindi come procedere, che cosa vi servirà? Vi ho detto, un cartoncino, ok? Ovviamente, ripeto, io in casa avevo soltanto dei fogli, semplici fogli, è preferibile avere dei cartoncini, scegliete voi il colore. In realtà, in questa attività, vi dico subito che, una volta realizzata la vostra scultura e fatte le foto, quello che vorrò è che voi, diciamo, in una fase un po' più specifica di questa, diciamo, che non prevedeva Munari, era quella della colorazione, questa andare a disegnare seguendo però le piegature e i tagli che avete fatto, colorare con diversi colori e poi andare a rifare, diciamo, le foto. Ovviamente, questa parte viene fatta principalmente a casa. Perché ho detto questo? Perché la scelta del colore dei vostri cartoncini è vincolante nel momento in cui voi vorrete andare a fare lo studio del colore, che vi dico subito, non è necessariamente obbligatoria, però vi permetterà di studiare meglio anche l'effetto del colore sulle sculture. Però, comunque, guardate bene quindi alla scelta dei vostri cartoncini e alla forma. Voi potrete pure scegliere, prendere un cartoncino e poi ritagliarne un quadrato e utilizzare anche la forma quadrata. Anche perché, attraverso la piegatura, la cosa importante è che il cartoncino rimanga, si possa poggiare. Detto questo, prendiamo per esempio appunto il vostro cartoncino, faccio vedere come operare. Quindi cartoncini, è preferibile anche una squadretta e poi le forbici arrotondate. Che cosa facciamo? Possiamo pensare di operare delle piegature, vi faccio vedere sul foglio, sul libricino. Guardate, questa è una piegatura a metà, ma anche a un terzo, quindi con tre piegature. Se utilizzate un foglio quadrato, potreste piegarle lungo la diagonale del quadrato, il vostro cartoncino. Ok? In maniera tale che si va poi ad appoggiare la vostra scultura. Ora, Mono, guardate la mia perché purtroppo è un foglio e non si mantiene, però essendo poi a voi un cartoncino, diciamo, si manterrà in questa posizione. Effettuare quindi poi dei tagli. Facciamone qualcuno, no? Quindi o foglio quadrato o rettangolare, diciamolo scegliete voi, poi si effettuano dei tagli. Voi potete pure portare più cartoncini, più color, cioè con colori diversi, con forme diverse. L'importante è che dopo la piegatura, ovviamente, il vostro foglio deve rimanere, diciamo, deve avere la solidità, o meglio, deve avere degli appoggi per potersi mantenere. Questo è l'unico vincolo. Voi, ho detto, possiamo pure spiegarlo più volte. Il vostro foglio, questa è un'esperienza che dovete fare voi e dovete essere, diciamo, liberi. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, quindi pieghiamo un'altra volta. Facciamolo su di questo, ma vi ho detto, possiamo piegare ancora così. Questa è, adesso non ho fatta una. Ecco qua. Quindi, come ho fatto, ho piegato a metà e poi, secondo le altre metà, ho fatto altre due piegature opposte. Qual è l'operazione? Effettuare dei tagli. Dettagli che possono essere anche curvi. Io, diciamo, tendo a evitare dettagli, diciamo, sinusidali, perché, quasi sinusidali curvi, perché poi, vedete quello che ho fatto qua, dovete essere bravi. Ok, ma voi scegliete un po' quello che volete fare. Pregate il foglio. Andiamo a prenderci un po' la misura di quanto, perché voi dovete fare due tagli paralleli tra di loro, perpendicolari alla piegatura. Cioè, che vuol dire? Ne dovete sempre avere due, perché poi, se vogliamo far rientrare il nostro foglio, devono essere due parallele della stessa profondità. Quindi, per esempio, prendo tre, mettiamoci un po' più centrali, quindi, prendo tre centimetri dalla piegatura, quindi faccio un piccolo punto a zero, tre anche di qua. Ok, e quindi poi, con le forbici, vado a tagliare in maniera perpendicolare alla piegatura. Ovviamente, attenti a non tagliarvi le mani quando saremo in classe, non fatevi male, perché purtroppo, ecco qui, non penso che due semplici tagli. Ecco qui, a volte effettuati i tagli, che dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che piegare il foglio prima sulla piegatura opposta e quindi poi ci conviene andare a piegare qui e piegare anche da quest'altro lato. Ok, perfetto, vi renderete conto di come il foglio da piatto si trasformi in qualcosa che è tridimensionale. Questo è un esempio, ma io posso avere, posso continuare quello che dovrete fare voi. Posiziono con lo zero qui, prendo tre, mi faccio una piegatura di un centimetro da qua, ok? Poi ne faccio un'altra, questo lo dovete, diciamo, un po' elaborare voi. Giro da quest'altra parte, la faccio simmetria, quindi metto lo zero qui, metto tre centimetri e sempre uno, quindi effettuerò due tagli che andranno all'interno. Io sto facendo tutte queste misurazioni, ma voi potrete effettuare dei tagli a vostro piacimento, quindi cinque e cinque di qua. Non so se è chiaro, ma io sto facendo quello perché sono precisa, ma in realtà voi effettuerete dei tagli anche a vostro piacimento, senza, ecco qui, quindi perpendicolarmente alla piegatura, a cinque mi fermo, qua più o meno deve essere parallelo e mi devo fermare sempre uguale. E tagliamo anche di qua, ma io ripeto che tutta questa precisione può anche non esserci l'importante di fare due tagli perpendicolari alla piegatura per tenere, eccolo qui, le vostre fascette, che andrete poi subito a piegare e questo ce l'abbiamo dall'altra parte, ok? Quindi la stessa cosa di qua, piego e piego e quindi avrò la mia scultura. Ovviamente posso operare altri tagli anche su queste altre piegature, rendere il compasso, di puntare su questa piegatura, ok, uno, poi faccio anche un'altra qua, semmai la faccio allineata, non come la sto facendo io, vabbè. Proviamo a tagliare solo metà di questo, proviamo a fare un taglietto qui. Questa parte è un po' più complicata con la circonferenza, io la eviterei, però era giusto per farvi vedere che voi dovete pensare ed esprimere, ecco qui, dovete effettuare dei tagli e effettuare delle piegature, ok? Vi allegherò per esempio il pdf di questo libro dove vedete ci sono in realtà dei tagli già ben strutturati, però come vedete leggete bene perché qui ci sono le indicazioni su come, su laddove si deve tagliare e laddove si deve piegare, ma io in realtà, per esempio vedete per creare questo effetto dovete farvi questo disegno ovviamente prima e poi andare a incidere in realtà come lo farete, l'incisione che sarebbero le parti dove vanno piegate dovrete farlo con la punta del compasso, mettere la squadretta allineare dove dovete piegare e con la punta del compasso, passarci sopra senza schiacciare in maniera tale da incidere e non forare. Queste, diciamo, ancora possiamo utilizzare, vedete, si possono creare anche delle piegature complesse, però in realtà io preferisco che voi siate liberi di creare quella che volete, questa diventa un po' più artistica. L'operazione deve essere quella di sperimentazione, io perciò l'ho scelta. l'ho detto, potete lavorare con estrema, diciamo, libertà, la cosa importante è creare sempre due tagli paralleli, con linee parallele, quindi potrebbero anche essere uno, due, quindi poi il taglio deve essere sempre, diciamo, parallelo a questo, quindi ho questo e questo, mi devo fermare più o meno alla stessa, la stessa cosa, quindi posso avere anche un taglio un po' più arrotondato, ok? Però fatto un taglio devo averne un altro parallelo da sotto, ok? E quindi poi questo sarà la vostra, diciamo, scultura. Ovviamente, ripeto, non c'è limite, voi scegliete, l'unica cosa è dovete piegare. Come fate a piegare, ve lo ripeto, dovete posizionare qua, sul cartoncino, la piegatura già dalla prima piegatura, voi potrete anche incidere, quindi mettendo, piegando a metà e poi con la punta del compasso passare, però non dovete schiacciare. Dopodiché, infatti, i tagli, come vi ho detto, paralleli, si piega da una parte, si piega dall'altra e si piega anche al centro. Se non riuscite a piegare, non vi viene bene la piegatura, utilizzate, quindi, in questa maniera, squadretta, incidete un pochino e poi andate a piegare. A me è molto facile perché praticamente ho il foglio, non ho il cartoncino, l'unica cosa è che questo non mi crea solidità, cioè il foglio non è solido. Ecco qui, ovviamente voi il tutto potreste fotografarle davanti, da dietro, quindi rivediamo i cartoncini, quanti ne volete, di una vi andrete a concentrare sulle fotografie. Una volta effettuati due tagli paralleli, che possono essere, diciamo, lineari, questi qua, diciamo, circolari io li eviterei, però siete liberissimi di farli. Una volta fatti due tagli, la piegatura, quindi a questo punto fotografia in classe. A casa fate delle altre fotografie utilizzando uno sfondo unitario con la lampada, quindi varie posizioni, della lampada, per studiare il rapporto come cambiano le ombre. A questo punto, questa fase, non me la pongo come obbligatoria, però potreste passare a colorare le vostre fasce, potreste creare delle linee, in questo caso io vi dico solo linee geometriche, perché altrimenti non, che seguono in realtà le vostre piegature, per esempio, posso prendere la la squadretta, quindi tracciarmi queste linee principali, lungo le quali, secondo le quali io andrò a colorare, ok? Quindi ho tagliato qui, quindi mi faccio questo, posso andare a fare questo, cioè seguire le piegature e i tagli che ho effettuato, per creare una geometria. Io non so se sono stata chiara, quindi ho fatto questi tagli, ci vado a creare. Questa fase non ve la pongo come obbligatoria, perché diventa un po' più complicato, quindi poi, se mai anche qui abbiamo due colori differenti e quindi anche in questo caso, quindi poi abbiamo questo, già basta così e andare poi a colorare all'interno degli spazi, diciamo anche alternando un unico colore, lasciando quindi il bianco e questo colore, oppure con più colori, quindi queste fasce e così via, quindi colorarle e dopodiché rifare le foto, d'accordo? E vedere come il colore, ok, mi modifica, diciamo le forme. Adesso illustrerò una seconda parte di questa attività che è facoltativa, cioè la fa solo chi lo desidera e l'ho prevista in questa attività, perché proprio è un laboratorio che ho trovato da un altro libro, dal disegno alla scultura, che in realtà non fa altro che copiare il principio di Munari. Per questa parte vi servirà il vostro foglio da disegno, vi servirà la squadretta, d'accordo? Vi servirà ovviamente la matita, come sempre, e in questo caso sia il compasso diciamo di cui utilizzerete la punta metallica, che un taglierino. In questo caso, nel caso del taglierino, io declinio ogni responsabilità, cioè che vuol dire? Io prevedo, cioè ci sono delle piccole parti da tagliare che potete fare con le forbici, oppure se, visto che ci sono dei piccoli tagli, potreste farvi aiutare da un vostro genitore in maniera tale, cioè se siete voi capaci, però l'unica cosa è che non vi dovete far male, quindi io vi dico che fatevelo fare da un vostro genitore se non siete bravi col taglierino o se rischiate di farvi male. Io vi allegherò comunque questa scheda, però devo dire la verità, non si capisce più di tanto, quindi ho preferito farlo io, diciamo dal vivo, e farvi il tutorial. Noi in realtà realizzeremo un'altra scultura da viaggio, però siccome non è più un atto creativo, se non nella colorazione, l'ho messa come, diciamo, un'attività non obbligatoria. La prima cosa, tracciamoci le diagonali del foglio, dopodiché, consideriamoci questo punto e questo punto, e uniamo questo con i vertici opposti, cioè che vuol dire, questo punto lo uniamo con il vertice della squadratura opposta, questo punto col vertice opposto. La stessa cosa, questo punto col vertice opposto. A questo punto, ragazzi, dobbiamo prenderci la metà di questo segmento, che sarà, questo è 14,8, quindi 7,4, che va bene, mettiamo lo 0 con questo trattino e ci prendiamo 7,4 mm, mettiamoci un punto, la stessa cosa da qua, mettiamoci invece col trattino 7,4 e mettiamoci il punto a 0, ok? Fatto questo, uniamo con il vertice opposto. Bene, la stessa cosa, giriamo il foglio, dobbiamo farla da qua, quindi 7,4, lo allineiamo col trattino e mettiamoci un punto a 0, 0, 0 e 7,4 e uniamo con il vertice opposto. Dopodiché, prendiamo 5 cm, partendo dal trattino, quindi 5 qui e 5 da quest'altra parte, quindi mettiamo 5 e 0, il punto a 0 e uniamo. Giriamo il foglio, trattino, 0, 5 e 5 di qua. Uniamo. Nella scheda, non so se si vede, forse mi avvicino di più, voi al computer la vede molto più grande, quindi si vedrà molto di più. A questo punto io direi, tagliatevi proprio la cornice, ok? In maniera tale che ce la togliamo. Come si effettuano i tagli col taglierino? Ragazzi, dovete mettere sempre uno spessore sotto, altrimenti finite di tagliare il tavolo della cucina, non so dove state lavorando. Io utilizzo proprio il contenitore dei fogli di cartone, lo metto sotto, questo me lo metto da sopra, ovviamente vi serve una riga, la riga più grande, a me questa è da 45, ma quella è una grande, posizionate, allineate con la squadratura, d'accordo, ripeto, vedete le dita non devono andare avanti, perché altrimenti vi tagliate le dita, ma tenete ben fermo, per favore questa fase se la volete fare voi, che si sia un vostro genitore che vi sorveglia, e quindi guardate, piano piano dovete schiacciare e incidere. Il mio consiglio è molto semplice, il vostro taglierino deve essere ben affilato, quindi la lama deve essere nuova, ve lo dico perché altrimenti combinate un casino, quindi tolto questo, effettuiamo gli altri tagli. Noi ci ritroveremo in questa specifica situazione, ok, guardate, lui vi dice dove piegare e dove effettuare i tagli, quindi pieghiamo prima sulla parte più esterna, che sarebbero qui, vedete, sui punti più esterni, come si fa la piegatura col cartoncino? Ok, allineate questo punto con questo punto di sotto, prendete il compasso, come sempre, prendete la punta metallica e incidete, senza, ragazzi, senza premere troppo, ecco qui, sennò fate il foro, cioè non fate la piegatura, ok, quindi questa è il primo taglio, girate il foglio, allineate questo punto con questo punto, vabbè, questa non è pericolosa, a meno che veramente non siate proprio, diciamo, pasticcioni, pasticcioni, ci manca questa centrale, quindi, che volevamo anche fare prima, quindi allineate questo punto, questa al centro, è molto facile, molto più difficile spiegarlo, che neanche farlo, e abbiamo, come vedrete, ok, questo, questo va piegato proprio, come avevo piegato quello di prima, alla fine è come se fosse una piegatura a tre, ok, facciamoci un attimo i tagli centrali, guardate bene, che sul foglio è molto più semplice, sono questi, in realtà c'è un colore viola, che individua le linee di taglio, e che dovrebbero essere proprio, è una X, ok, che sarebbe, dovrebbe essere, speriamo che, diciamo, ho visto giusto, perché dal computer, vi dico la verità, si vede molto meglio, dovrebbe essere questa X, quindi, ve la faccio con il colore, in maniera tale, che voi vi rendiate conto, quindi, diagonale, allineate, alla squadretta, alla diagonale, che avete già tracciato, quindi, guardate, partendo da destra, ed è qui che iniziano tutto, il groviglio di linee, ed è lì, che andrete a effettuare, il taglio, il taglio in questo caso, quindi, foglio sempre sotto, d'accordo? Foglio sempre sotto, qui dobbiamo proprio tagliare, cioè, volevo dire, cartoncino sempre sotto, qui dobbiamo proprio tagliare, io l'ho fatto rosso, la mia per farvi capire, ma voi, dopo andrete a colorare, le parti così, con colori vostri, quello che volete, quindi, tenete, ben, premuto, partite da qui, a questo caso, dovete premere, e vi dovete fermare, da quest'altra parte, ecco qua, è uno, e due, mi raccomando, non vi fate male, con questo taglierino, purtroppo questo, non lo vedo fattibile, con le squadre, con le forbici, quindi, è molto più semplice, in realtà, ragazzi, ci mancano delle piegature, che sarebbero proprio questa, e questa, che ci ho effettuato prima il taglio, una volta effettuato il taglio, ci rendiamo conto, la dove va la piegatura, cioè allineo la squadretta, a questi due punti, con il compasso, parto da qui, fino a qui, quindi, eccola qui, è una, che in realtà, ci fa piegare, la nostra letta, ovviamente ragazzi, qui, chi fa questa attività, dovrà provvedere una colorazione perfetta, e le colorazioni, come sappiamo, diciamo, devono essere omogenee, perché altrimenti, è un bel pasticcio, quindi, allineato come prima, incidete, ma non tagliate, non forate, e quindi poi, piegate, a questo punto, come ben capite, la nostra scultura, inizia, ovviamente voi non, non vi rendete conto, ma la nostra scultura, può, in qualche modo, già, diventata, tridimensionale, quello che va a fare, il vostro, quello che potrete fare, è pensare, di effettuare altre piegature, anche qui, per esempio, e questo viene fuori, e, attenzione, piegature, in questo caso, non devono, assolutamente, non dovete effettuare dettagli, altrimenti, rovinate tutto, l'unico taglio, che dovete fare, secondo, il vostro, la vostra scheda, è questi, uno, e due triangoli, lo facciamo, sempre col taglierino, ma, io vi dico, che anche questa cosa, potreste un passaggio, che potreste anche non fare, colorare anche di nero, come lui, fa intendere, io vi consiglio, di procedere alla colorazione, e, un'altra cosa, anche in questo caso, dovrete effettuare, delle fotografie, come vedete, questa scultura, si piega, e io me la trasporto, tranquillamente, in questa maniera, nel momento in cui, io la apro, ho, spasso dal piano, allo spazio, la parte di sopra, può andare anche in avanti, però se va in avanti, vi renderete conto, che, le alette non si vedono, quindi, questa è, a tutti gli effetti, una scultura da viaggio, quindi, va colorata, e va completata, con i colori che volete voi, in questo caso, non aggiungerei altre linee, ok, ma colorare, anche soltanto, la parte centrale, lasciando la bianca laterale, vabbè ragazzi, e niente, divertitevi, e, buona sperimentazione,